E giù le mani da vergato, lasciate stare vergato, che è un paese che ha bisogno... Posso fare un esorcismo? Posso pregare? Io non posso né autorizzarla in un senso né in un altro, mi è stato detto, né possono fare le autorità di pubblica sicurezza. Lei faccia quello che crede ma stia bene, attento a non creare un clima di odio ulteriore. Guardi, lei è venuta stamattina e questa notte, sa che cosa è successo? È successo che alla statua e all'ingresso del Museo Ontani sono state scaricate dei sacchi di letame. Questo è successo, perché quando si semina l'odio come fa lei, succedono queste cose. Lei non crede di seminare odio quando lei individua il male in opera. Io vorrei sapere chi di vergato l'hanno chiamata, io vorrei sapere quali cittadini di vergato l'hanno chiamata qua. Vogliamo sapere chi l'ha chiamata qua. Con una semplice vita in mano mi state attaccando. Non la stiamo attaccando. Con un semplice cocifisso. Restiamo chi dentro chi di vergato la tenda. Non faccio la vittima non faccio la vittima. Mi volete cocifiggere? Mi volete cocifiggere? Mi volete cocifiggere? Che vergato ci pensiamo noi. Questo signor sindaco, questo è un posto pubblico? Questo è un posto pubblico. Posso dirigervi? Non andare via, vergognati! La casa calma! Sei un vergogno! 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 Avrai anche denunciato per la politica! Buffone! Adesso, adesso, adesso! Buffone! 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 Un metallizzatore di qualsiasi cosa! San Michele a Cangelo, sei il figlio della battaglia! Sei tu il nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del diavolo! Sei! Scemo! E li freddiamo tutti i tempi, e noi pregiamo tutti i tempi! E tu i principi della ministra c'è niente! Con la potenza di Scemo! 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 Scemo, 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 scemo benedizzi sei benedetto sei benedetto dai il bagno non mentire che sono io più potente sei benedetto sei benedetto vieni a lavarti alla Chacrafonte